Stiamo sorgolando la terra di Cuba, stiamo per tornare a Lavana, la terra di Cuba. Ecco, quelle che vedete davanti a voi sono le piste di atterraggio degli UFO, rotonde, le piste di atterraggio degli UFO. La terra di Cuba. Stiamo sorgolando Cuba. Atterraggio a Lavana, mitici questi taxi, mitici, ma che belli. Andiamo, andiamo a Lavana, andiamo. Un cambiamento con il fiero. Andiamo. 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 Andiamo.